Le notizie da darvi signori sono tre, come al solito siamo sempre pieni di notizie e Pondino cerca di soddisfare la vostra fame, la prima è a Napoli che è andato in tilt il sistema di prenotazione secondo me interessante perché comunque sia il maschio angioino va tutelato come tutte le bellezze di Napoli ed è giusto mettere le spiagge su prenotazione in certi posti, io sono completamente favorevole, sono d'accordo, però purtroppo è andato il tilt in sistema app, in sistema info insomma. Quindi è intervenuta la finanza, la polizia eccetera, la seconda cosa riguarda il caso Draghi nel senso che vedremo cosa succede in Parlamento, vedremo se Conte darà sostegno, cosa succede al governo, il sospetto di Salvini che ci sia un gioco su Draghi, io questo l'ho sempre detto, è molto probabile e perché comunque sia si ridanno le carte Draghi tornerà in auge nella prossima legislatura perché ci sono i dragiani in tutti i partiti. L'ultima cosa riguarda il gas russo, probabilmente si taglieranno le forniture, si entra in recessione spediti, si abbasserà il riscaldamento, sarà un disastro quest'inverno, cavoli vostri.